cari aspettatori e cari ascoltatori oggi voglio testare un nuovo posto sto facendo la puntata dal parcheggio esterno dell'Aprilia Sporting Village centro locale con palestre e spa e tutta una serie di altre cose che non utilizzo che mi interesserò nemmeno a voi prima di iniziare con la puntata devo chiedere scusa perché ieri ho completamente sbagliato il nome della casa che pubblica i giochi che ho citato cioè Dark Ages Britannia e Let's War i giochi in realtà sono pubblicati dalla WBS Games di Roma nome particolare che però sciolto diventa We Build Smiles costruiamo sorrisi games quindi chiedo ancora scusa sicuramente ci saranno puntate non collegate con le mie scuse ovviamente in cui esplorerò meglio questi giochi e quindi risentiremo parlare di loro a breve invece questa sera volevo approfondire il discorso legato a un altro dei giochi che abbiamo fatto nella prima giornata della Board Game School che sono talmente abituato a portarmi dietro che mi sono dimenticato di nominare che è timeline tradotto e pubblicato dalla Asmodee Italia intanto ne approfitto ogni volta che li cito per ringraziare i ragazzi dell'Asmodee Luca e Massimo in particolare perché sono stati con noi fin dall'inizio del progetto quando ancora dovevo iniziare il primo anno sono andato a trovarli ho chiesto un po' di supporto mi hanno coperto il materiale e ci hanno sempre e ci hanno sempre sostenuto anche quando abbiamo organizzato i campionati di Twilight Struggle di Labyrinth insomma un servizio veramente eccezionale comunque sia quello di stasera non è una marchetta perché erano mesi che non parlavo di loro saluto intanto Max e Paolo che mi hanno raggiunto grazie mille in questa puntata ricordo a chi magari dovesse mettersi in collegamento solo stasera che inaspettando il Giannizio Nero quest'anno è una trasmissione dedicata a unire gioco storia e letteratura e didattica seguendo un percorso iniziato già ormai cinque anni fa alla scuola in cui insegno con il professor Mauro Faina i fratelli Rosselli di Aprilia e quindi le puntate che troverete anche in passato sono legate a questo argomento come unire gioco e didattica tra l'altro ne approfitto per ho notato di recente ho partecipato anzi di recente una discussione online l'ASMODE Italia parliamo sempre di loro ha appena pubblicato la versione italiana di l'edizione italiana del gioco Black Orchestra che è fortemente ispirato a tematiche storiche in quanto si interpretano personaggi realmente esistiti che hanno provato a fare il famoso attentato uno dei famosi attentati ad Adolf Hitler e che fra l'altro mi sembra che sia disponibile nei negozi almeno nella distribuzione da oggi e c'era questo post sul gruppo giochi da tavolo mi pare in cui una pubblicità dell'ASMODE che diceva si può imparare la storia da un gioco ha scatenato una ridda di sì no è impossibile ci vogliono i libri eccetera eccetera restringo velocemente il tutto alla mia modesta opinione penso che il concetto di fondo sia che per imparare qualcosa serve un insieme di elementi che siano lo studio sui libri che sia la pratica che si fa attraverso eventualmente un lavoro uno studio una riflessione un approfondimento e se uno non può pensare di prendere un gioco Black Orchestra e uscirne sapendo tutto quanto dell'attentato di Hitler che sarebbe come vedere operazione Valkyria e pensare di sapere tutto di quel periodo in realtà può essere sicuramente un buon modo per avvicinarvisi se non si è già studiato oppure una volta che magari abbiamo letto un libro che ci ha interessato una serie di testi affrontarlo anche da un altro punto di vista visto che l'apprendimento visto che faccio il docente temo di saperlo abbastanza bene è un insieme di fattori che non si può circostanziare esclusivamente a una lettura anche di tanti testi diversi paralleli sullo stesso argomento chiuso questo piccolissimo discorso torniamo al gioco che di cui non ho parlato ieri ma che invece mi porto dietro da moltissimo tempo che si chiama per l'appunto timeline allora timeline edizione asmodè è molto simile in realtà le carte sono praticamente comuni con l'altro gioco che si chiama anno domini edizione da vinci games come sono fatte queste carte praticamente sono carte che hanno riportato su un lato un evento storico sto provando con una mano ad aprire la scatolina che è molto carina ecco fatto ce l'ho fatta da un lato c'è un evento storico e dietro c'è una data la data in cui quell'evento storico è avvenuto allora il gioco fondamentalmente si può fare in molti modi la versione ufficiale timeline spero di non sbagliarla perché ci siamo riempiti di house rule e di altre regole simili è praticamente c'è una carta scoperta in mezzo io devo scegliere una delle tre carte che ho giù di cui non so le date scusate è dalla parte solo dell'evento e decidere rispetto all'evento che ho in mezzo se è avvenuto prima o dopo se ci prendo la carta è giocata e se non ci prendo la carta va come faccio a capire se ci prendo ovviamente quando la gioco giro la data e vedo se ci siamo se non ci prendo devo pescare un'altra carta e il primo che finisce le carte vince questo sistema base ovviamente più carte vengono messe sul tavolo più diventa complicato soprattutto per date abbastanza limitrofe trovare la posizione questo che sembrerebbe un gioco formalmente di conoscenze in realtà mette in moto tutta una serie di riflessioni e di pensieri che così male non sono soprattutto per collegare tra loro diversi diversi momenti storici pensare cosa è avvenuto prima pensare se la cosa che è avvenuta è conseguenziale a qualcosa già presente sul tavolo magari la causata insomma mette in moto tutta una serie di competenze trasversali che invece in realtà trovo molto superiore al semplice nozionismo poi intendiamoci il giorno che mi arrivano i ragazzi che dicono no non giochiamo più a quell'edizione perché ormai c'è lui che saluta le date a memoria ho praticamente raggiunto un obiettivo a me non interessa particolarmente che ricordino le date però una delle cose più difficili da insegnare a scuola parlo di storia sono sempre stati i famosi nomi e date quelle cose che andavano imparate a memoria a me in realtà interessa che i ragazzi imparino la conseguenzialità degli eventi e più o meno il momento storico in cui è avvenuto e comunque sia timeline queste cose me le dà comunque la versione no domini invece è un po' più simile al dubito nel senso che tutte le carte vengono giocate coperte finché qualcuno non dice dubito scopre la carta che hai appena giocato scopre la carta di fianco se ha ragione chi ha giocato la carta viene ripescata da chi ha giocato se ha scusatemi se ha ragione che ha giocato la carta viene ripescata da chi ha detto dubito se invece ha ragione quell'altro ha ragione chi ha dubitato quindi hai messo mai la carta la carta viene ripescata da chi l'ha giocato poi ci sono una marea di varianti qua in mezzo insomma il gioco è molto molto carino anche da fare in serate tra amici come filler per partire Max che saluto mi dice che assimila una vecchia enciclopedia degli anni 60 si può essere insomma anche perché il gioco appunto è abbastanza banale l'edizione Asmodee sono sincero mi piace di più di Anno Domini per quanto riguarda la componente grafica le scatoline sono fatte in metallo sono veramente carine anche la grafica è molto carina ci sono varie edizioni nel senso abbiamo gli eventi storici che è quella che mi sembra che ho messo in copertina ce n'è uno generale c'è uno dedicato alle invenzioni uno alla scienza uno alla musica Anno Domini invece dalla sua ha un maggior numero di scatole con situazioni anche magari un po' più aneddottiche o anche argomenti non toccati alla timeline come per esempio una scatola dedicata a solo gli eventi sportivi quindi il mio consiglio prendetevi tutti e due mescolateli tra loro che tanto il gioco appunto e scegliete ogni volta la modalità che preferite è comunque un gioco che è talmente agile che si può portare veramente sempre con sé se qualcuno volesse provare ve lo faccio anche giocare immediatamente nel senso che Enrico che ci è appena arrivato e che saluta anche lui non so minimamente cosa sia Quiz Planet ah Quiz Planet è il giochino con cui ci sfidiamo online però abbiamo smesso perché sono troppo avanti in classifica comunque Enrico quando vuoi sfidami interesserà tantissimo questo discorso ai nostri ascoltatori ma comunque sia non ci sono domande di Quiz Planet ci sono solamente gli eventi storici faccio un esempio allora abbiamo giù in mezzo al tavolo la carta la scoperta del collegamento tra cromosomi ed eredità datata 1915 fatta da Morgan e abbiamo fra le nostre tre carte possibili che possiamo giocare qua mi dice sfida Paolo Enrico va bene lo farò promesso abbiamo fra le tre carte che possiamo giocare la scoperta del Messico la scoperta di Tori Titanic o la scoperta dei raggi cosmici allora se voglio vincere facile io parto ovviamente con la scoperta del Messico che so che ovviamente è precedente e quindi la gioco è il 1520 è precedente e la carta viene scartata quello dopo di me anche lui ha tre carte fra cui scegliere e anche lui cercando di vincere facile mi gioca per esempio la scoperta della sequoia che colloca a questo punto però il dubbio che ha è la scoperta della sequoia è avvenuta prima della scoperta del Messico o è avvenuta dopo la scoperta del Messico e già lui ha un problema allora cosa pensate voi ascoltatori risponditevi velocemente in chat hanno scoperto prima la sequoia o hanno scoperto prima il Messico vediamo il primo che risponde dai 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 Paolo Enrico Max è un casino oggi forza hanno scoperto prima il Messico o la sequoia non vale guardare su internet dai com'è che quando il Giannizio fa queste cose rispondono tutti subito e qua nessuno sono tutti timidi Paolo Enrico Max niente sono tutti timidi ecco qua ecco che arrivano Paolo dice boh Enrico e Krieg Spill e Max dicono il Messico quindi la sequoia andrebbe dopo la scoperta del Messico giriamo la carta ed è il 1602 bravissimi avete indovinato a quel punto tocco di nuovo a me mi è rimasta la scoperta del reto il Titanic o la scoperta dei raggi cosmici allora io vado a memoria se nel 1915 hanno scoperto il collegamento tra cromosomi io penso che il Titanic che è di quel periodo lì l'abbiano scoperto il relito un po' dopo e quindi lo metto dopo tutto a quel punto lì abbiamo infatti 1985 eccoci qua e il gioco si svolge in questa maniera ribadisco molto divertente molto carino un giorno che magari c'è c'è un po' di gente che mi segue come oggi magari lo riprendo fuori e ci divertiamo un altro po' con un po' di date non so perché laggo Max io spero di avere problemi di linea risentirò la puntata e poi dopo vediamo di di risolverlo di rigirarla se ci sono problemi ringrazio tutti quelli che sono stati con me vi spero tutti quanti a sfidarmi su Quiz Planet io rispondo a tutti quindi venite pure che ci divertiamo assieme Quiz Planet è un gioco legato a Facebook ringrazio ancora tutti quelli che sono stati in diretta quelli che mi ascolteranno in differita a breve un'altra puntata dedicata a un altro dei giochi utilizzati nel progetto Board Game School che è quello che sto portando avanti per unire gioco e di tattica mi fa piacere Enrico ti sei piaciuto Timeline lo rifaremo è già finito perché la puntata è arrivata quasi alla fine un'altra volta magari giochiamo veramente tutti insieme a Timeline a distanza ai messaggi leggo dopo lo so Max perché non sono come il Giannizzero ho pochissimo tempo e cerco di raccoglierli tutti ok grazie ancora a chi c'era è stato molto divertente se potete divertiti come me e ci sentiamo alla prossima puntata questa sera abbiamo un po' di tempo e quindi come dice sempre il Giannizzero sigla grazie a tutti